Allora Adesso facciamo degli altri esercizi ci mettiamo stavolta in uno spazio ancora più piccolo R2 Un vettore V di R2 è xy un vettore generico Un vettore può essere visto come vettore o anche come punto di coordinare xx Allora magari siccome xy chiamiamo gli assi cartesiani diciamo con uno studiamo x con uno y con uno Ok Allora questo può essere visto come punto o anche come vettore Allora Per prima cosa andiamo a vedere andiamo a vedere che cos'è l'equazione parametrica a a b questo è facile a di una retta passante per l'olipide Per esempio per esempio se vogliamo prendere la retta che contiene questo vettore quali punti contiene o quali vettori contiene tutti i multipli di questo vettore qua quindi se io vado a fare per esempio mettiamo che nel nostro caso questo era uno e questo era due v con uno uguale a uno due Adesso vi vado a fare l'insieme di lambda volte uno due al variare di lambda appartenente a R cosa ottengo? ottengo una retta passante per l'olipide questa qua si chiama equazione parametrica di questa retta le rette in genere si chiamano con le lettere R S perché è parametrica che è parametrica perché vedete qua viene fatto variare lambda lambda è il parametro cioè il coefficiente della combinazione lineare che varia qua c'è un solo vettore c'è un solo coefficiente lambda varia dove nel campo del riscalante quindi si dice che il parametro lambda varia in R al variare di lambda io cosa faccio? ogni lambda mi dà un punto di questa retta al variare di lambda l'equazione parametrica riempie o percorre tutta la retta però normalmente questa retta qui voi non siete abituati a vederla in modo parametrico non siete abituati a scrivere quell'equazione come siete abituati a scrivere con un'equazione cartesiana si chiama qual è l'equazione cartesiana di questa retta? è y uguale 2x questa è facile come analisi perché in un altro deve passare per 0 quindi la c non c'è poi in 1 sale di 2 però guardate che y uguale 2x io lo posso anche scrivere come 2x meno y uguale 0 posso anche scriverlo adesso per capire meglio come si fa intanto a passare da questa equazione panometrica da questa equazione cartesiana alla panometrica o viceversa qua è facile cosa si fa si prende questa equazione si va all'indietro scrive y uguale 2x poi si scrive x uguale x y uguale 2x si aggiunge all'equazione che abbiamo l'identità sull'incognito che è rimasta a fungere la parametra quindi questa equazione come vettore la posso scrivere anche così xy uguale x per 1,2 siccome x è arbitrario perché è rimasto libero allora io parto da qua torno indietro io y uguale 2x e questa è l'unica equazione che ho aggiungo quest'identità perché come funziona questa equazione un parametro è libero lo scelgo io e l'altro me lo ricordo è dipendente linealmente dipendente da x è mutuo allora cosa faccio formalmente il parametro libero lo riscrivo come identità x uguale x allora così che tutto il vettore xy ce lo posso scrivere come x mettendolo in evidenza per 1,2 questo è x per 1 questo è x per 2 metto in evidenza linea x per 1 siccome x è libero io posso scrivere che xy è uguale all'insieme invece di chiamarlo x lo posso chiamare lambda 1,2 tale che lambda appartiene a r e questo è l'insieme delle xy appartenti alla mia letta r cioè r quindi per passare dall'equazione cartesiana alla parametrica faccio questa operazione e cosa faccio per passare da quella parametrica alla cartesiana y è uguale a 2x torno indietro faccio 2x metto y uguale a 4 ora allora io introduco provvisoriamente lo faccio solo in R2 un prodotto scalare come si fa il prodotto scalare i due vettori si fa A per C più B per D la somma dei prodotti è componente 1 non è il prodotto per uno scalare perché non sto moltiplicando per una costante sto moltiplicando due vettori e ottenendo il numero questo si chiama prodotto scalare per adesso in R2 poi vedremo come si fa in Rn è simile ma non lo voglio fare in generale non voglio mettere troppa carne però tornando qua questa equazione cartesiana come la posso scrivere la posso scrivere anche così 2-1 scalare xy uguale a 0 ma chi è 2-1 vettore 2-1 non è altro e questo vettore qua secondo voi che relazione c'è con il vettore 1-2 sono tra di loro ortogonali perché sono ortogonali perché il loro prodotto scalare vedremo è facile verificare che il loro prodotto scalare 2-2 fa 0 e vedremo che quando il prodotto scalare fa 0 due vettori sono ortogonali quindi la stessa retta noi la stiamo descrivendo in vari modi diversi equazione parametrica tutti i punti o i vettori proporzionali a 1-2 equazione cartesiana tutti i vettori ortogonali a 2-1 perché chiaramente se questo è ortogonale anche qualunque è ortogonale a 2-1 ok allora questo è un punto di vista geometrico il punto di vista algebrico è algebra lineare io prendo 1-2 devo fare tutte le combinazioni lineari ma in questo caso il vettore è unico quindi devo fare tutti lambda per 1-2 al variare di lambda quindi tutti in ultimo equazione cartesiana io so che y è uguale a 2x questa è l'equazione che mi definisce la retta la scrivo in forma implicita cioè portata tutta a primo momento viene 2x meno y uguale a 0 che poi posso anche interpretare come prodotto scalare con il vettore 2-1 uguale a 0 che vuol dire che sono tutti i vettori ortogonali a 2-1 quindi questi coefficienti qua 2-1 rappresentano quello che si chiama il vettore normale alla retta perché dirette passanti per l'origine ortogonali o normali a 2-1 ce ne sta una sola ci siamo fino a qua bene adesso complichiamo leggermente la situazione andiamo a vedere qual è grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti vogliamo ancora fare rappresentare una retta però allora se volessimo rappresentare un altro sottospazio vettoriale di R2 sarebbe un esercizio quasi sterile perché? quali sono i sottospazi vettoriali di R2? o l'origine o una retta per l'origine o R2 stesso quindi le rette per l'origine l'abbiamo vista R2 non c'avete equazioni? dovete riempire tutto R2 lo potete riempire con una combinazione lineale di due vettori indipendenti parametricamente ci vogliono due parametri per riempire R2 perché c'è la dimensione 2 ci vogliono due parametri oppure solo lo spazio nullo ma lo spazio nullo che è un sistema di due equazioni x uguale a 0 e y uguale a 0 parametri non vogliono a 0 questa cosa si comincia a intuire però in R2 non si capisce niente si capisce meglio in R3 che le equazioni parametri che è il numero dei parametri liberi corrisponde alla dimensione del sottospazio mentre il numero di equazioni cartesiane corrisponde alla codimensione cioè in R3 una equazione non ci darà una retta ci darà un piano due equazioni a sistema ci daranno l'intersezione di due piani se passano tutte e due per l'origine saranno due piani per l'origine che daranno una retta per l'origine però questo lo vedremo dopo perché ripeto se no mettiamo troppa carne e cuce qui invece voglio complicare la situazione in una direzione diversa andiamo a prendere la retta non per l'origine ok qual è l'equazione generale di una retta che non passa per l'origine una retta generica qual è l'equazione qual è l'equazione generale no l'ho capito qual è l'equazione generale della retta prima dimmi l'equazione y è uguale a mx no non è quella 0 x uguale a x allora la più c quella più generale qual è x uguale a x no no è a x più b y più c uguale a 0 questa è l'altra l'altra non comprende tutte le rette possibili quali non comprende se tu scrivi y uguale a mx più n quali rette ti stai perdendo le rette del tipo x uguale a 3 le rette del tipo x uguale a 3 cioè le rette verti queste sono tutte rette che si possono scrivere sotto forma di funzione e non è il caso generale siamo abituati a scrivere così perché noi siccome facciamo analisi non ci interessano quelle di più ma se no diciamo comunque non è il caso generale il caso generale è questo poi ok facciamo un esempio vogliamo descrivere una retta che passi per il punto 1 1 e poi passa per il punto 2 3 allora per due punti sappiamo che passa una e una sola retta allora qual'è l'equazione r passante per i punti 1 1 e 2 3 vi dovete trovare questa equazione qua qual'è l'equazione? qual'è l'equazione? potete ricararvi prima quella con la y x quant'è? allora per trovare la m siccome la delta non è verticale si può scrivere anche nella forma y uguale mx2 per trovare la m per trovare la m come si fa? si fa delta y su delta x quindi la x 2 meno 1 fa 1 3 meno 1 fa 2 2 meno 1 m è uguale m è uguale 3 meno 1 fratto 2 meno 1 viene 2 quindi viene y uguale 2x più più quanto? è facile perché se ci metto 2 questo punto deve appartenere alla retta allora 2 per 2 fa 4 per far uscire 3 ci devo non aggiungere ma sottrarre vedete? 2x meno 1 4 meno 3 fa 1 2x meno 1 2 meno 1 fa 1 però posso anche scriverla se la voglio scrivere sotto forma generale come la posso scrivere? 2x meno y meno 1 uguale a 0 questa è r r è uguale all'insieme delle x y tali che ok? questa è la forma cartesiana e se voglio passare alla forma parametrica cosa devo fare? allora torno indietro come prima e poi come prima scrivo x uguale x x vi vado a scrivere la mia uguaglianza xy che è x per 1 2 più 0 meno 1 vedete? x uguale x più 0 che fa x x y uguale 2x meno 1 che fa 2x meno 1 allora guardate bene cosa rappresentano questi valori qua? 0 0 meno 1 rappresenta un punto della retta perchè la retta per 0 meno 1 ci basta infatti infatti se ci metto qua 0 x meno 1 1 2 cosa rappresenta? rappresenta la direzione cioè il vettore che mi dice vabbè se riuscisse a fare un segno recente ok? ok? ma guardate bene questa retta qua r' chiamiamola r' chi è? è la parallela a r passante per l'origine qual è l'equazione della parallela r passante per l'origine? ci devo togliere questo si capisce ancora meglio se passiamo alla equazione parametrica r lo potevo scrivere come 0 meno 1 più lambda volte quindi qua x è libero lo chiamo lambda lo faccio diventare un parametro 1 2 al variabile di lambda appartenente a r r' che è è lambda volte 1 2 è tale che l'hanno appartenente ci siamo fino a qui? ok allora dicevo questa è l'equazione cartesiana di R questa è l'equazione cartesiana di R' la parallela è R ma passante per R cioè quella che corrisponde allo spazio vettorale questa non si chiama spazio vettorale si chiama spazio vettorale se la voglio vedere in forma cartesiana beh, questa è la fase è la lambda per 1 e 2 l'abbiamo visto prima era quella di prima qua invece viene 0 meno 1 più lambda 1 e 2 ora, quello che ci interessa sapere è è l'unico modo di rappresentarle cioè questa la posso scrivere diversamente invece di scrivere 2x meno y uguale a 0 posso scrivere in un altro modo per esempio potrei scrivere 6x meno 3y uguale a 0 cambia qualche cosa? non cambia niente? perché non cambia niente? eh? è un'equazione un'equazione se la moltiplico di 3 è l'equazione la stessa no? quando io moltiplico un'equazione ambo i membri di equazione per un numero diverso da 0 l'equazione non cambia idem qua qua come potrei scrivere? per esempio 4x meno 2y meno 2 uguale a 0 cioè fin tanto che queste equazioni le moltiplichiamo per un numero diverso da 0 cambia poco anche qui questa espressione qua cosa potrei scrivere? invece di scrivere lambda per 1 2 potrei scrivere mu per 2 4 oppure per invece di 2 4 diciamo un mezzo tale che mu appartiene a r è cambiata la retta? no cambiata la descrizione ma la retta è sempre quella per esempio qua c'è il punto 1 2 per lambda uguale a 1 qua c'è il punto 1 2 sì per mu uguale a 2 qua c'è il punto 3 6 per mu uguale a 6 qua c'è il punto 3 6 per lambda uguale a 3 praticamente è come se fosse mu uguale a 2 lambda perché questa è la metà di questo e quindi mu deve essere adesso adesso veniamo a quella più delicata allora guardate bene 0 meno 1 è un punto che sta sulla mia retta 1 2 è questo vettore qua 1 2 quando faccio la somma ottengo 1 1 mettete lambda uguale a 1 0 meno 1 più 1 2 fa 1 1 e ottengo un altro punto della retta mettiamo lambda uguale a 2 in questo caso devo fare 0 meno 1 più 2 volte 1 2 2 volte 1 2 fa 2 4 più 0 meno 1 fa 2 3 quindi cosa devo fare devo fare la somma di questo vettore qua sempre quello di prima fisso e del doppio di 1 2 e mi viene quest'altro vettore qua quando faccio la somma con la regola e parola cioè cosa sto facendo questo è il vettore che percorre prima per spostare il punto di avere primo su R ci sto sommando questo vettore fisso questo qua si chiama vettore di traslazione allora uno dice tu hai una retta parametrica e la stai spostando aggiungendo un vettore la stai spostando su una retta che non basta vedete questa è la retta parametrica più questo vettore fisso gli da una retta che non basta ora la cosa interessante è che questo vettore questo vettore abbiamo capito com'è arbitrato 1 2 lo posso moltiplicare per qualunque costante di rezza da 0 per esempio se al posto di 1 2 qua ci metto un mezzo 1 2 4 meno 1 meno 2 è la stessa cosa perché la direzione è sempre quella meno di un coefficiente di proporzionale però è questo lo posso cambiare si basta prendere qualunque punto della reta per esempio 2 3 per esempio io posso scrivere qua 1 2 3 più mu meno 1 meno 2 tale che mu abbattere e se è la stessa rete vediamo un po' la mia retta la mia retta era y uguale 2x meno 1 facciamoci una tabella mettiamo x e calcoliamo la y per esempio se x fa 10 la y quanto fa? la y non fa? 19 19 allora vediamo un po' vediamo se io faccio 2 3 più mu meno 1 meno 2 uguale 10 19 qual è? viene 2 meno mu uguale 10 3 meno 2 mu uguale 19 vediamo se funziona qua mi viene mu uguale 2 meno 10 che fa meno 8 sostituite sotto 3 meno 2 per meno 8 fa più 16 16 più 3 fa diciamo vedete che funziona se invece la volevo ottenere come 0 meno 1 più lambda volte 1 2 sempre uguale 10 19 allora cosa dobbiamo fare? dobbiamo prendere l'amito uguale a 10 perché vedete 0 più 10 fa 10 meno 1 più 10 per 2 che fa 20 20 meno 1 fa 19 in questo caso l'amito è uguale a 10 cioè lo stesso punto 10 19 in questa descrizione qui il parametro deve fare 10 in questa descrizione qui il parametro deve fare meno perché meno perché il vettore di traslazione è diverso è questo invece che questo cioè poi vi faccio una figura fatta meglio così si capisce il discorso della traslazione e poi perché la direzione non l'ho scelta al contrario quindi quando lambda sarà molto positivo mu sarà molto negativo è chiaro? ok adesso faccio una figura per farvi capire questo discorso della traslazione allora abbiamo detto che io ho una retta passante per l'origine e una retta parallela che per l'origine non ci passa allora prendete un qualunque punto che sia sulla retta non passante per l'origine anzi prendete due di questi punti qualunque allora questo è un punto B questo è un punto Q sono ambe due allora sapete che per P e Q che non sono che sono due punti distinti nel piano quanti retti ci passano? quasi allora però andiamo a vedere chi è P-Q P-Q se vi ricordate quello che abbiamo detto l'altra volta è questo vettore qua ma questo vettore qua va traslato nell'origine quindi si fa il parallelogramma e questo è P-Q questo qua allora vedete che se P e Q sono due qualunque punti della retta allora la mia retta è questa è la retta R come la posso descrivere? qual'è l'equazione parametrica? è Q più lambda volte P-Q allora vedete se ci metto zero mi viene Q se ci metto uno mi viene P la descrizione è lineare e quindi mi da la refera se ci metto se ci metto chi mi viene 2P-Q perché viene 2P-2Q quindi 2P-Q quindi viene 2 volte questo meno Q allora come vedete Q e P-Q sono diciamo arbitrarie Q e P sono arbitrarie cosa succede? quando li vado a cambiare io posso prendere due qualunque punti della retta perché appena prendo due punti della retta distinti la retta non cambia però cosa succede? che Q può variare in maniera enorme prima per esempio qua poteva avere 0-1 oppure poteva avere 2-3 oppure poteva avere 10-9 o qualunque punto base sulla retta invece T-Q non cambia perché non cambia nel senso che la direzione è sempre quella a meno di un fattore di proporzionalità mi verrà sempre in questo caso qui mi verrà sempre 1-2 oppure 2-4 oppure meno 1-2 cioè un vettore proporzionale a 1-2 chiaro? più chiaro di così io non lo riesco a esporre se permangono dubbi esiste un rimedio antico come il mondo che si chiama esercizio ok? si è vero non mi ho ancora dato i nomi dei libri ve li do mercoledì però gli esercizi di questo tipo non c'è bisogno dei libri vedete ci stanno dappertutto gli esercizi altra lineale potete attaccate a internet scaricate quando ne volete ok allora facciamo un riepilo per concludere facciamo un riepilo cosa abbiamo visto prima abbiamo visto la descrizione di rette in R2 prima quelle parallele scusate quelle passanti per l'origine quelle corrispondono a dei sottospazi mettoniali di R2 abbiamo però puntualizzato che ci sono due descrizioni alternative e poi capirete il senso perché sono veramente diverse una è parametrica lo vedremo quando faremo le rette piani in R3 parametrica tu vai a riempire il tuo insieme allora prendi un vettore ti fai tutti i multipli hai fatto la retta l'altra è cartesiana cioè ti diceva che la retta Y uguale a 2X erano tutti i vettori ortogonali a 2-1 era un'equazione quindi non partivi da un vettore e lo allungavi per riempire tutta la retta ma partivi da tutto R2 ci mettevi un'equazione e invece di avere tutti i vettori di R2 scendevi di una dimensione nell'altro caso al variare il parametro lambda riempivi di una dimensione quindi diciamo la descrizione parametrica il numero dei parametri liberi corrisponde alla dimensione e riempie l'oggetto l'equazione cartesiana invece ogni equazione mi fa scendere diciamo partiamo dallo spazio ambiente e ogni equazione mi fa scendere di una dimensione di una dimensione poi questa cosa ripeto può ancora non capirsi benissimo si capirà benissimo quando faremo retta e piani nel retto poi cosa abbiamo fatto abbiamo preso la retta e invece di farla passare per l'origine abbiamo preso una retta che non passava per esempio questa cosa ok allora vedete che qua non avete più ax più by uguale 0 che vuol dire che xy è ortogonale ad ab ma avete ax più by più c uguale 0 quindi vuol dire che oltre il fatto che sia ortogonale il vettore fisso è stata spostata quindi è parallela a una passante ortogonale questa qua non si chiama spazio vettoriale si chiama sotto spazio e quando non basta per l'origine il traslato è uno spazio di spazio quando lo andiamo a portare in equazione parametrica cioè quella passante per l'origine si portava così quella non passante per l'origine c'è un vettore di traslazione questo vettore di traslazione può essere scelto tramite un qualunque punto della retta quindi questo qua mentre questo cambia ma quando cambia la rappresentazione più o meno non riconosci perché è sempre evoluzionale la direzione è sempre quella invece di vedere 1 2 vedrai meno 1 meno 2 2 4 3 6 meno 3 meno 6 però capisci che il rapporto tra la x è sempre questo qua questo fa 2 questo fa 2 qua invece può sembrare cambiare in maniera più lenta perché non è altro che questo più un multiplo di questo che è un altro punto della retta quindi apparentemente può sembrare uno può non accorgersi però che cos'è questi qua che cosa sono questi qua sono una soluzione di questa equazione se io ci metto 0 meno 1 qua mi viene 0 più 1 meno 1 che fa 0 se ci metto 2 3 viene 4 meno 3 meno 1 che fa 0 quindi questi qui algebraicamente non sono altro che soluzioni di queste equazioni e questi qua sono le soluzioni dell'omogeneo 2 meno 2 fa 0 se ci metto meno 1 meno 2 viene meno 2 più 2 se ci metto 3 6 6 meno 6 fa 2 quindi questi vettori qui sono le soluzioni di questa equazione cartesiana e questi vettori qui sono le soluzioni dell'equazione che si chiama omogenea cioè quella dove avete preso c e l'avete messo è chiaro? adesso spiegate una serie di esercizi cominciate a fare e cominciate a impratichirvi queste equazioni e poi faremo la stessa cosa in R3 in R3 abbiamo vettore null tutto R3 e quindi vabbè non serve perché sono banali ma ci abbiamo le rette e i piani quindi in quel caso secondo voi qual è il modo migliore di descrivere una lettera in R3 cartesiano o parametrico? parametrico perché già c'è la direzione e qual è il modo migliore di descrivere un piano? cartesiano perché c'è la direzione molto corale invece se il piano lo vuoi parametrico i parametri ce ne vogliono due vettori perché per rendere un piano ci vogliono due vettori che già da nel piano anche se passa per loro in questo caso se non passa per loro ci bisogna ulteriormente della sua invece la retta se la vuoi cartesiana una retta pensate alla costola di un libro deve venire dall'intersezione di due piani questo questo lo vedete di un po' di un po' di un po' Grazie a tutti